E what's up a tutti ciurme e benvenuti raggio green in questa nuovissima reaction Ebbene ragazzi questa volta su un trailer che è uscito un pochino di tempo fa Ma comunque si tratta di un titolo super discusso Proprio perché stiamo parlando appunto del remake di Resident Evil 4 Io personalmente sì, ho giocato Resident Evil 4, l'ho giocato in live su Twitch E sono stata tra l'altro contenta di giocarlo Anche perché tra l'altro mi sembra di capire che i fan di Resident Evil abbiano comunque molto apprezzato appunto all'epoca l'uscita di questo gioco Forse non tanto i puristi di Resident Evil perché ovviamente ragazzi questo gioco uscì se non sbaglio su PS2 Quindi comunque aveva introdotto delle nuove meccaniche anche di gioco Meccaniche che quindi erano diverse da quelle a cui i fan di Resident Evil erano abituati A me personalmente ragazzi il gioco è piaciuto Penso di aver odiato Ashley come tutti quanti quelli che hanno giocato questo gioco Come non odiarla E visto che ragazzi questa è comunque l'epoca dei remake Penso proprio che sia il caso di guardare questo trailer Perché io ho giocato tra l'altro il remake di Resident Evil 2 e di Resident Evil 3 Giochi che mi sono piaciuti davvero tantissimo Quindi sono veramente molto molto curiosa di vedere che cosa ci propongono con questo trailer Quindi non perdiamo più tempo e andiamo a guardarlo Peggy 18 Uscirà appunto l'anno prossimo Inizi dell'anno prossimo più o meno Ah perché l'ambientazione è quella che è Per questo questa musica spagnoleggiante Guarda non mi piace Eccola là La nostra adorata Ashley Caro Leon Bello rivederti Ah però Ah però E beh ragazzi Esce il 24 marzo Ispira tanta bella roba Vi dicevo Non so se questo è effettivamente proprio l'ultimissimo trailer Uscito Aspettate Penso di sì Perché comunque a me non sono uscite altre cose più recenti Tutti quanti comunque risalgono più o meno appunto a tre mesi fa Quello che posso dire ovviamente si vede poco e niente ragazzi E che sicuramente le aspettative sono alte Il mio hype direi abbastanza alto Perché comunque vista ragazzi La qualità degli ultimi remake di Resident Evil Specialmente del secondo Ho davvero buone aspettative per questo nuovo remake Anche perché secondo me appunto ci possono uscire atmosfere davvero molto 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 interessanti A quanto avevo saputo da ultime notizie Sono trapelate appunto alcune nuove informazioni Riguardo per esempio il fatto che hanno reso più moderno il gameplay Se non sbaglio forse anche la gestione dell'inventario Avranno dato un nuovo aspetto ad alcuni dei mostri Ad alcune delle creature E quindi ragazzi Cioè è tanta roba secondo me Davvero tanta tanta roba Per cui il mio hype devo dire è relativamente alto Specialmente perché io mi sono avvicinata appunto ragazzi Al mondo di Resident Evil Proprio direi in questi ultimi due anni Adesso non ricordo quando è uscito il remake del secondo Saranno due tre anni al massimo Quindi mi sono avvicinata al mondo di Resident Evil Proprio in questi ultimi due tre anni Perché il primo Resident Evil che ho giocato nella mia vita Ragazzi è stato il set per cui io non avevo mai giocato I primi Resident Evil E incominciare poi insomma avvicinarmi alla storia del secondo Con un remake come quello che ci hanno dato ragazzi È stato veramente un bell'impatto Un bell'impatto per cui Io adesso il quattro l'ho giocato Ovviamente quello vecchio chiamiamolo così E quindi devo dire che secondo me da questo remake Può uscirci veramente roba molto 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 interessante Se non sbaglio avranno cambiato forse anche La figura del mercante Mi sembrava di aver capito Rendendola forse un pochettino più simile A quella del duca Non so se vi ricordate ragazzi Se avete giocato Resident Evil Village Sapete di chi sto parlando Quindi le cose interessanti ci stanno E secondo me può e ne verrà fuori Davvero tanta tanta roba Ovviamente ragazzi aspetto i vostri pareri Qua sotto in commento Fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questo trailer Cosa pensate di questo nuovo ulteriore remake Se avete dell'hype Che aspettative avete Se lo comprerete Se lo prenderete al lancio Se aspetterete Se lo prenderete per PS5 o no Tra l'altro ultima notizia All'inizio a quanto si era capito Dovevo uscire soltanto per la next gen Chiamiamola così Quindi soltanto per PS5 e compagne Ma a quanto ho capito e trapelato proprio nell'ultimissimo periodo Negli ultimi giorni ragazzi Lo porteranno anche sulle console più vecchiotte Molto probabilmente scelta dovuta al fatto Che ragazzi attualmente di PS5 non se ne trovano Tantissime persone non sono riuscite a comprarla E non ancora riescono a comprarla E chissà se riusciranno a comprarla per l'anno prossimo Quindi forse hanno fatto questa scelta ragazzi Anche per andare incontro appunto A chi non è riuscito a passare ancora a next gen Una scelta che forse ha fatto storcere un po' il naso Ovviamente a chi ha già PS5 Solo aspetta su PS5 Ma questo alla fine poco importa Poco cambia Dovrebbe far storcere il naso Forse a chi come me ragazzi ha ancora old gen Perché sicuramente il gioco subirà Forse un importante downgrade Grafico e di tutto il resto appresso Ovviamente Però che c'è possiamo fare ragazzi La vita va così E va bene lo stesso Quindi ricordatevi ragazzi di lasciare un bel commentino qua sotto Questo video termina qui Grazie a tutti Un bacione Dovadocio a tutti ragazzi da Giocherina Ciao